vegeta contro it nell'episodio in cui vegeta affronta it si nota che questo avversario è particolarmente forte a differenza di quelli che la squadra di lord beers hanno affrontato finora vegeta infatti prova a colpire l'avversario ma it sembra essere in grado di prevedere tutte le sue mosse quindi ogni colpo di vegeta viene schivato infine it riesce a sconfiggere vegeta con dei semplici attacchi ma efficaci nell'episodio viene intuito che in realtà it usa dei salti temporali e contro una tecnica così particolare la squadra di lord beers non riesce ad elaborare una strategia grazie a tutti grazie a tutti